Ciao sportivi, bentornati sul mio canale. Quest'oggi andremo a trattare di campionato di serie A, terza e quarta giornata, vi andrò a proporre quelli che sono i miei pronostici. Iniziamo da Empoli-Napoli. Io prevedo un over 2,5 da giocare assieme al 2, quindi 2 più over 2,5. Fiorentina-Genoa, molti bookmakers dicono di provare l'X2, tuttavia io sono più convinto dell'1 più no goal. Closinone-Roma, 2 più no goal. Inter-Milan, 1 handicap, azzardatevi. Io meno azzarderei, vedo l'Inter molto molto favorita rispetto al Milan. 1 handicap, o se preferite un 1 più goal. Il risultato esatto io proverai il 3 a 1 per l'Inter. Juventus-Chievo, 1 più no goal, risultato fisso, proverai il 2 a 0. Lazio-Dinese, 1, semplice. Palermo-Carpi, risultato secco, 2 a 0. Sampdoria-Bologna, X fisso. Magari X più goal. Il risultato esatto secondo me è 1 a 1. Sassuolo-Atalanta, per me è un under, under 2,5. Verona-Torino, ipotizzo un 2 più goal per il Torino. Il risultato esatto è un 1 a 2. Siamo alla quarta giornata. Atalanta-Verona, goal. Bologna-Frosinone, 1. Carpi-Fiorentina, 2. Chievo-Inter, 2 più goal. Giona-Juventus, X2. Coprirsi perché la Juve giocherà la Champions a Manchester. Milan-Palermo, un 1. Volendo si potrebbe tentare l'1 più goal. Oppure l'1 più over 2,5. Napoli-Lazio, goal. Roma-Sassuolo, 1. Più goal. Torino-Samp, penso in un 1x. Non azzarderei l'1 fisso in questa partita. Udine-Esempoli, 1. Questo mio video si conclude qui. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace nel caso affermativo. Fate dei commenti di cosa non vi è piaciuto. Se avete altri suggerimenti per le prossime schede di qualche partita che voi vi sentite proprio sicure di prenderla. Non sarebbe male. Vi ricordo di, eventualmente, se giocate le schede di giocare con moderazione. E so se siete maggiorenni. Spero che mi supportiate nella mia crescita di youtuber. Nulla, ci vediamo nel mio prossimo video. A presto, ciao!